La protezione civile di Fermo è guardata con ammirazione per il ruolo e le moltiplici funzioni che svolge. Ne abbiamo parlato con Ingrid Luciani, assessore competente, che ci ha illustrato quali sono stati i compiti svolti in questo particolare momento di emergenza. Gli interventi sono stati moltiplici. Abbiamo iniziato con la consegna di spesa a domicilio per soggetti che non potevano uscire di casa, o perché anziani o con soggetti fragili o perché in esionamento sanitario domiciliare, quindi consegna di spesa e di farmaci. E poi si sono giunte una serie di altre attività molto impegnativa in questi giorni, è quella del diagnostic drive-thru in assistenza al personale dell'Asur, che è quella che effettivamente effettua i tamponi, però noi ci occupiamo di smistare le persone, controllare le persone che arrivano, smistarle affinché ci sia distanziamento previsto. Misure di anti-assembramento, penso anche alle posse, dove c'è il ritiro, soprattutto in occasione del ritiro delle pensioni, ma anche in altre zone, supermercati e così via. Ci sono anche delle associazioni, tra l'altro anche penso al CB Servizi Radio, che sono con noi convenzionate. Poi moltissime attività le abbiamo fatte e c'è ancora ringraziare il gruppo Cives, che sono gli infermieri professionali, professionisti, che durante il loro tempo libero hanno un'associazione e fanno volontariato e sono sanitari chiaramente qualificati, quindi è un valore aggiunto importantissimo. Anche con il Cives abbiamo una convenzione stipulata in effetti pochi mesi prima dello sviluppo di questa emergenza. E poi è anche un'attività, quella di consegna dei materiali forniti dalle scuole, quindi PC, materiale didattico e quant'altro, per gli studenti che ne fanno richiesta. L'organico della protezione civile conta quattro addetti al centro operativo comunale da parte dell'ufficio tecnico, che sono affiancati da altrettanti operatori dei servizi sociali, ma sono i 40-50 volontari che negli ultimi due mesi sono stati divisi in turni da 15 persone a settimana a fare la differenza in questo momento. La risposta è sempre forte, quindi ci tengo veramente a ringraziarli.